La bellezza della famiglia come nucleo fondamentale della società è al centro del XIII Congresso Internazionale per la prima volta in Italia a Verona dal 29 al 31 marzo. Negli anni il congresso si è tenuto in altri paesi, Australia, Olanda, Messico per citarne alcuni. In Sala Razzi gli organizzatori dell'evento hanno fatto chiarezza su alcune fake news circolate sulla stampa e sui social, su pesanti accuse diffamatorie ricevute da alcuni di loro e le minacce come quella di impiccagione per Gandolfini con una violenza che non esprime negli atteggiamenti la proclamata tolleranza. Intanto è un dibattito che per certi versi e per alcuni aspetti è incomprensibile. È incomprensibile perché non si capisce perché quando qualcuno rivendica legittimamente dei diritti, porta avanti determinate battaglie, lo possa fare e quando qualcun altro invece vuole parlare di famiglia, vuole parlare di figli, vuole parlare di famiglie numerose, non è legittimato ed è una cosa negativa. La cenerentola della società è stata proprio la famiglia che è stata molte volte abbandonata a se stessa e la famiglia costituisce il fondamento della società, quindi va aiutata in maniera tale che anche si affronti l'enorme problema per l'Italia della denatalità con un'incentivazione quindi ad avere figli e che ci siano famiglie numerose. Con l'accusa al congresso di essere evento omofobo, integralista e fascista, la conferenza stampa è stata interrotta due volte dalle proteste degli attivisti. Mi chiedo e chiedo ma perché non si può parlare di famiglia? Ce l'abbiamo tutti, l'abbiamo avuta tutti, abbiamo avuto tutti un padre e una madre. Per me è la cosa più bella. Mi rendo conto che nelle scuole tanto disagio è dovuto proprio alle famiglie che si rompono, ai figli che restano soli. Mi rendo conto che il tema della denatalità riguarda proprio questo e allora perché tutto questo odio? Io non ho mai insultato nessuno, sono stata insultata però. Il congresso avrà una particolare visibilità al 31 marzo con la marcia per le famiglie che vedrà la contromanifestazione di attivisti di ambienti abortisti e LGBT. Il congresso della famiglia è una grande festa, una grande festa di famiglie, papà, mamme, bambini, ragazzi, giovani, nonni, nonni che vogliono raccontare alla società italiana, europea e mondiale perché è un congresso mondiale qual è il punto fondamentale della crisi che stiamo vivendo, che è una crisi della famiglia, che è una crisi sociale che ha al suo cuore la mancanza di politiche fiscali, economiche e anche culturali a favore della famiglia. A Verona arriveranno tra gli altri Don Fortunato di Noto, da anni impegnato contro la pedopornografia online, il ministro dell'istruzione Bussetti, l'ex difensore della Juventus Nicola Le Grottaglie, semi basso il giovane affetto da progeria, relatori da altri paesi del mondo e di altre fedi religiose.